state pensando qualcosa o no calma zio l'illuminazione te la devi far venire non devi mica andare a cercarla hai ragione che stupido forse tirando fuori la foto di stefano lavori ci verrà l'ispirazione che c'è c'è che non stai aiutando e che ho fame io ho una mela zio vuole mangiare una mela qui dentro è impazzito non puoi mangiare una mela nell'azienda della mela eccolo l'ho preso ricomponila ricomponila ci sto provando lascia fare a me no mai oh mio oh 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 oh